Buongiorno a tutti, ben sintonizzati su Ok Italia Parliamone. La diffusione della pandemia Covid-19 da grave emergenza socio-economica potrebbe anche diventare però l'occasione giusta per ripensare i principi che reggono la nostra economia, per riformulare metodi e fini ed anche per riportare alla ribalta questioni di equità e di etica. Oggi il nostro ospite di Ok Italia Parliamone per parlare dell'idea di una società più partecipata e viva nell'impresa, nel mercato e nei processi di globalizzazione, l'amico Gaetano Fausto Esposito, segretario generale di Asso Camerestero e docente di economia politica all'Università Mercatorum. Ben arrivato Esposito. Grazie, grazie della vostra ospitalità. Esposito, lei autore di numerosi saggi e volumi sui temi dell'economia finanziaria e dello sviluppo, dell'economia industriale e della statistica economico-territoriale e anche dei processi di internazionalizzazione delle imprese. Lo dicevamo nella sua presentazione, d'altronde lei è anche il segretario generale dell'Associazione Camere di Commercio Estere che raggruppa le nostre Camere di Commercio in giro per i paesi del mondo. Oggi abbiamo il piacere, come Ok Italia Parliamone, di presentare il suo ultimo libro, Come un salmone che risale la corrente e il Zeviri per un capitalismo globale più umano, edito da Bruno Mondatori, che adesso faccio vedere ai nostri ascoltatori, spero che sia ben inquadrato e che si possa vedere. Questo è il testo, l'ultima fatica letteraria di Esposito. Esposito, cosa c'entra? Un pochino particolare, il salmone che risale la corrente quando parliamo di economia. Poi usa anche questo termine, il Zeviri, un termine per un capitalismo globale, un termine non molto consueto nel lessico, nel linguaggio attuale. Allora le chiedo principalmente, ma cosa c'entra il salmone con l'economia, il capitalismo e la globalizzazione? Ma c'entra perché il salmone è un pesce strano, un pesce molto particolare. Io l'ho utilizzato come metafora per descrivere la necessità di avere un approccio un po' più eterodosso e diverso dalla visione tradizionale sul capitalismo. Il salmone è un pesce che nasce nell'acqua dolce, si fa trascinare dalla corrente, arriva all'oceano. Poi a un certo punto, lui pesce d'acqua dolce che tra l'altro si deve adattare all'acqua salata, quindi c'è già un forte processo di adattamento, mutazione eccetera, come si avvertisse il richiamo delle sue origini. E' proprio durante l'epoca della procreazione che fa risale la corrente e spesso lo fa in in maniera molto pericolosa. Già risalire la corrente è uno sforzo notevole perché andare contro corrente, diciamo, significa raddoppiare, triplicare e moltiplicare gli sforzi. Poi ci sono anche dei predatori lungo il suo cammino, ci sono per esempio gli orsi oltre i pescatori che cercano di prenderlo. Ciò nonostante, lui risale la corrente e ritorna da dove parte. Ecco, quindi a me sembrava che questo personaggio, questo pesce, che è un pesce strano, è un pesce irrequieto. Non trova la sua sistemazione nell'ambiente in cui nasce, ma si adatta e poi in qualche modo ritorna nell'ambiente da cui è nato. È un pesce sicuramente irrequieto, un pesce irreverente. Se vogliamo, il salmone oggi è proprio la metafora della resilienza, cioè della capacità di adattamento, di lavorare contro la crisi che ci sta attanagliando, per l'altro una crisi dovuta a motivazioni non economiche, ma poi trasformatasi in motivazioni economiche. E quindi mi piaceva proprio identificarlo in un nuovo modo di intendere il sistema economico globale, in un nuovo modo di intendere il capitalismo e forse è un'immagine effettivamente che dà il senso, così come il concetto di Elzeviro. Cioè io ho utilizzato il termine Elzeviro, più che il concetto il termine. Elzeviro sono quegli articoli di fondo che nei giornali di una volta venivano scritti, ancora adesso in carattere diverso, ed erano un po' polemici. Per fare una polemica su quello che è il capitalismo standard della visione convenzionale. È molto bella, è bella anche questa metafora con la quale ha voluto accompagnare i lettori nella scoperta dell'economia, perché in tanti si possono con facilità, grazie al suo libro, anche si possono affacciare al mondo dell'economia per cercare di conoscerne in maniera anche estremamente semplice, perché ho notato nel suo libro che nonostante lei tratta argomenti molto complessi, riesce a rappresentarli con una capacità di linguaggio, di scrittura veramente molto facile, questo è un qualcosa di non comune e la ringrazio per questo. Ma Esposito, l'evoluzione della tecnologia negli ultimi anni, lo vediamo anche scorrendo le pagine del suo libro, perché lei lo riporta, viaggia a velocità a cui difficilmente riusciamo ad adeguarci per tempo. Non corriamo il rischio di non essere in grado come persone di metabolizzare il cambiamento? Sì, è un rischio che effettivamente stiamo correndo ed è un rischio che è tipico di questa fase della rivoluzione trasformativa che stiamo vivendo. Noi abbiamo negli ultimi 200 anni vissuto diverse rivoluzioni industriali, molto spesso però la tecnologia di fatto si limitava a sostituire la forza lavoro. Questo è stato il tradizionale concetto con cui la tecnologia applicata alla produzione ha consentito di aumentare la produttività, l'incremento della produttività, quindi diciamo della quantità prodotta in termini di impiego di lavoro ha portato un aumento di reddito, un aumento di reddito, un aumento di consumi e tutto si è in qualche modo tenuto nel medio periodo pur con crisi cicliche di sistemi. Adesso il mondo tecnologico è cambiato perché la tecnologia, soprattutto quella 4.0, quindi diciamo la tecnologia digitale applicata, quale ad esempio la tridimensionalità, le stampanti 3D o altri esempi di tecnologia basate sull'intelligenza artificiale, sull'internet delle cose, questo tipo di tecnologia non si limita più a sostituire forza lavoro, ma addirittura sostituisce capacità lavorative intellettuali e questo già sarebbe un problema di per sé. In più noi ci troviamo di fronte ad una velocità di sviluppo della tecnologia che è una velocità esponenziale, cioè come se fosse una curva continuamente crescente, mentre invece la capacità di adattamento della società e della produzione è un processo proporzionale. Quindi tanto per dire, ormai la tecnologia ci sta non solo condizionando, ma ci sta togliendo non solo forza lavoro, ma anche capacità lavorativa. Le professioni che sono più a rischio non sono necessariamente le professioni con un minor livello di qualificazione, perché probabilmente queste professioni, siccome hanno un livello di personalizzazione molto alto, vengono difficilmente, almeno in questa fase, sostituite dalla spinta tecnologica, ma le professioni maggiormente a rischio sono quelle intermedi, cioè le professioni che tipicamente sono caratteristiche della classe media che già sta subendo gli effetti della crisi, l'ha subita fin dall'inizio, quando diciamo con l'immagine che tutti abbiamo in testa del crollo della Lemon Brother, le persone portavano i loro scatoloni, lasciavano i loro scatoloni con le cose dentro e le portavano fuori. Quindi l'ha subita già nel 2008, la sta ulteriormente subendo in questa fase. Ecco, quindi noi dobbiamo essere in grado di avere che approccio? Un approccio fondamentalmente trasformativo, dobbiamo cercare di avere come antidoto, cioè esiste un unico antidoto, quello di incrementare la creatività nello sviluppo di mansioni standardizzate e anche intellettuali. Lo sviluppo della creatività è per il momento l'antidoto che ci consentirà di usare le macchine e anzi di potenziarci ulteriormente. E questo significa anche cambiare il modo con cui noi affrontiamo i processi di formazione, perché noi siamo abituati a una formazione abbastanza ancora tradizionale, quando si dice la formazione sul computer, ma ormai il problema non è più il computer, è un modo diverso di comprendere gli algoritmi metabolizzandoli in un approccio creativo. Ecco, quando parlava del Lehman Brothers ricordiamo che proprio l'introduzione del suo libro racconta appunto, ed è piacevole anche leggerlo, questa improvvisa crollo che ci fu appunto il 15 settembre 2008 appunto, quando ci fu il crollo della Lehman Brothers e si vedevano tutte queste persone che immaginavamo tutte come delle persone infallibili che uscivano dalla sede principale con gli scatoloni pieni dei propri effetti personali. Infatti il suo libro prende proprio l'avvio proprio nel racconto di quella notte, perché lei dice poco dopo l'una di notte falliva Lehman Brothers, il 15 settembre del 2008. Un altro aspetto molto importante, vorrei parlare con lei di mercato, perché nel suo libro lei dice che il riferimento al mercato è oramai la guida esclusiva di tutti i nostri comportamenti, lei lo definisce anche il barometro di quanto avviene nella società, ma di quale mercato e di quale società parla nel libro? Allora, non parlo del mercato che è stato il manifesto, il feticcio dello sviluppo neoliberista degli ultimi anni. Noi abbiamo avuto, direi a partire dagli anni 80, una fortissima considerazione da parte di economisti anche molto noti, anche molto stimati. Per tutti cito Milton Friedman, il premio nobile dell'economia, un po' considerato il padre di tutti gli economisti neoliberali. Per Friedman e per le persone che hanno seguito l'approccio, il mercato in quanto ipotizzato come una specie di meccanismo impersonale diventava il metro di tutte le cose. Cosa consente il mercato? La maggiore efficienza. E allora affidiamoci al mercato per il tutto, perché maggiore efficienza significa costo più basso e quindi benessere per tutti. Ma questo se il mercato fosse effettivamente un mercato effettivamente funzionale. Cioè se per esempio non ci fossero posizioni di rendita monopolistica o oligopolistica che consentono quindi sostanzialmente delle forme di sfruttamento. Purtroppo però questa impostazione ha finito per spostare sul mercato, sui principi di mercato, anche tutta un'altra serie di fattori, elementi che col mercato poco avevano a che vedere. Ad esempio a un certo punto si inizia a parlare di processo politico come un processo di mercato. Le istituzioni devono ragionare come ragiona il mercato. Però qui c'è una grossa confusione, perché il mercato è un meccanismo di incontro. Allora se il mercato è un meccanismo di incontro, allora deve essere anche un meccanismo di incontro in cui non si incontrano soltanto valori monetari, ma si incontrano anche persone e valori etici. In questo senso il mercato, in quanto tende a massimizzare i risultati, può essere considerato un elemento, un paradigma di riferimento. Non nel senso che ha portato, come ha ricordato lei giustamente, agli scatoloni della Lehman Brothers. Ecco, quello è stato forse il momento, l'immagine più plastica, in cui un mercato eccessivamente finanziarizzato, tutto spostato sulla speculazione, ha fatto un botto enorme e purtroppo quel botto enorme è durato quasi dieci anni. Cioè ha portato invece ad una crisi complessiva, diciamo dal punto di vista dell'economia reale, che si è diffusa ad onde e che ha sostanzialmente condizionato la vita di tutti noi e poi non eravamo ancora usciti, almeno in Italia, non del tutto almeno, quando c'è stato questo secondo virus, il primo è stato un virus finanziario, l'altro invece un virus biologico, ma sempre di virus parliamo. Ecco, infatti perché noi stiamo vivendo in questo periodo la più grande crisi economica dal dopoguerra, ovviamente legata alla pandemia Covid-19, ma ecco, una crisi che è superiore a quella che è iniziata, come diceva giustamente lei nel 2008. Al termine di ogni grande crisi è solito interrogarsi sulle sorti del capitalismo e delle sue istituzioni più emblematiche. Queste sono ovviamente l'impresa e il mercato di cui ha parlato anche lei poco fa. La crisi esposito non è ancora finita, speriamo che finisca presto, anche se dobbiamo essere molto onesti intellettualmente, sappiamo che purtroppo avremo ancora da subire molto da un punto di vista economico. Io la domanda gliela faccio lo stesso. Il capitalismo, così come siamo abituati a conoscerlo, il capitalismo che abbiamo studiato sui testi universitari, è morto? No, il capitalismo non è morto. A me piace ricordare sul capitalismo una frase di quello che poi è il padre del moderno marketing, che è Philip Kotler. Philip Kotler è un professore americano che sostiene, dice ma il capitalismo è il peggior regime economico esistente, escluso tutti gli altri che abbiamo sperimentato e che hanno fallito. Questa frase richiama molto quella di Churchill sulla democrazia, ma ha una profonda verità. Il capitalismo ha una sua caratteristica, che è un po' quella del salmone, quella di rigenerarsi, quindi di mutare in base a quelle che sono le diverse condizioni storiche. Noi abbiamo attraversato diverse forme di capitalismo e abbiamo oggi nel mondo diversi modelli capitalistici. Paradossalmente il modello anglosassone, quello vincente fino agli anni 80, sembra oggi offuscato dal modello asiatico barra cinese, che è un modello di capitalismo politico, che però sta dando diciamo degli effetti in termini valoriari, sta dando dei punti diciamo allo stesso modello anglosassone. Però fondamentalmente il tema è questo. Lei ha detto giustamente che il capitalismo è fatto di mercati ed è fatto di imprese. Allora, i mercati e le imprese non sono dei concetti astratti, sono dei concetti assolutamente concreti e uno dei problemi è che noi dobbiamo cercare, e questo già si sta facendo, e il nostro paese storicamente ha una tradizione di inserire più valori delle persone all'interno, diciamo, del processo di mercato e di inserire più valori imprenditoriali all'interno delle imprese. Una delle problematiche che noi abbiamo vissuto recentemente è che nel mondo le imprese si sono fortemente managerializzate. Noi abbiamo perso in molti casi la figura dell'imprenditore, che era sostanzialmente definito, se uno vuol ricorrere a Schumpeter, che è stato quello che ha detto che l'imprenditore è il motore dello sviluppo economico, diceva che l'imprenditore è sostanzialmente un pazzo, non è interessato tanto al profitto di breve periodo, ma è interessato ad un processo di sviluppo della sua impresa, della sua immagine. Noi abbiamo perso questo tipo di imprenditori e abbiamo perso alcune lezioni che ci venivano da grandi imprenditori del passato. Oggi in termine il riferimento spesso appare abusato, Adriano Livetti, ma non abbiamo avuto solo Adriano Livetti, abbiamo avuto anche i focchi, abbiamo avuto grandi imprenditori, per i quali l'impresa, l'azienda più che l'impresa, l'azienda era uno strumento non soltanto funzionale al profitto. C'è un bellissimo volumetto di Olivetti in cui a un certo punto lui dice, ma in un discorso che lui fa, dice ma può l'azienda darsi dei fini che non sono il profitto? In realtà un tema, e qui chiudo, il capitalismo è vivo e vegeto, il capitalismo si sta ripensando, noi abbiamo bisogno sempre più che si affermi un capitalismo imprenditoriale, perché servono le imprese e civile, cioè che porti dei valori che sono anche dei valori di condivisione, ma questo non per un problema di altruismo nei confronti degli altri, perché questi valori sono convenienti per l'impresa di oggi che se non fa condivisione di lavoro, di conoscenze e di know-how è destinata a isterilirsi all'interno diciamo di quelle che sono le sue nuove. Indubbiamente Olivetti è stato anche, possiamo definirlo, uno dei primi visionari. Oggi si parla di alcuni imprenditori soprattutto di oltreoceano come visionari, ma possiamo dire che Olivetti è stato uno dei primi ad avere una visione che andasse ben oltre appunto la ricerca, la mera ricerca del profitto aziendale. Ecco, in un momento di crisi esposito, quale è anche quello attuale, serve ridare fiducia alle imprese. Sempre più le imprese sono sfiduciate e hanno paura di ciò che dovranno affrontare nel prossimo immediato futuro. Le chiedo, quale ruolo e responsabilità hanno le istituzioni per rilanciare la fiducia nel Paese? Ricordiamo che c'è anche un bellissimo discorso di Mattarella di poco tempo fa al riguardo. Sì, il Presidente della Repubblica ha più volte evidenziato il nesso che c'è tra fiducia e responsabilità. Se uno analizza perché nascono le istituzioni, il motivo fondamentale per cui nascono le istituzioni dovrebbe essere proprio quello di dare fiducia alle persone producendo una serie di beni che gli economisti chiamano beni pubblici, la sicurezza, la sanità, una burocrazia funzionante che semplifichino la vita e non consentano sostanzialmente di affrontare quelle problematiche che singolarmente invece gli individui non potrebbero sostenere. Noi ci troviamo oggi da diverso tempo invece, ma non soltanto nel nostro Paese, direi è un processo un po' generalizzato. Le istituzioni paradossalmente si sono trasformate in uno strumento di sfiducia. Cioè, capita spesso che invece di svolgere un ruolo rassicurante per quanto riguarda i cittadini, per il sommarsi di processi burocratici di vario tipo, ma anche di processi di potere di vario tipo, le istituzioni invece finiscono per creare un forte effetto di delusione. Allora, evidentemente c'è un problema culturale, c'è un problema che non può essere posto, diciamo, soltanto sul vertice politico, perché poi ricordiamo sempre che i vertici politici li eleggiamo noi, quindi dire, dare di tutto la colpa, perché tanto la politica non funziona. La politica non funziona probabilmente perché noi abbiamo, non abbiamo voluto esercitare, forse anche per questo effetto di delusione nel nostro città. Quindi serve un rilancio di responsabilità, rilancio di responsabilità che significa anche di valorizzare la funzione istituzionale che hanno i corpi intermedi. I corpi intermedi hanno svolto, soprattutto nella crisi che ha preceduto questa Covid, un ruolo molto importante di sussidiarietà. I corpi intermedi non possono sostituire lo Stato, i corpi intermedi non possono sostituire il pubblico, serve un patto diverso e non solo burocratico, tra corpi intermedi che assumono delle loro responsabilità, ara istituzionali ma non istituzionali. È una classe dirigente politica che attraverso l'ascolto si assuma la responsabilità delle scelte e su quella base di quelle scelte venga valutata. Questo credo che sia l'unico modo per cercare in progresso di tempo di restituire non soltanto una fiducia ma anche un ruolo di sviluppo effettivo alle istituzioni che sono essenziali e, finito con una battuta, non possono essere soltanto sostituite dalla rete digitale, perché le istituzioni si basano sulle persone e anzi probabilmente l'aver pensato che la rete digitale favorisse i processi di partecipazione ha favorito un allontanamento dei cittadini dall'istituzione e non un avvicinamento, perché molto spesso la rete è preda di narrazioni poco veritiere, per non dire false, e quindi contribuisce essa stessa ad alimentare questa sfida. Ecco, l'Italia esposito viaggia ancora purtroppo a una doppia velocità per quanto riguarda l'economia, purtroppo anche insomma per quanto riguarda i collegamenti reali, stradali e ferroviari, ecco se vogliamo dirla tutta, perché c'è ancora un forte divario tra nord e sud del paese. Le chiedo come, quando e se finalmente usciremo da questo problema che sembra insormontabile. A lei ha detto giustamente, problema insormontabile, se già cento anni fa Giustino Fortunato se ne occupava, poi dopo di lui Francesco Saverionitti, tanti intellettuali. E' singolare vedere che questi intellettuali non si ponevano soltanto un problema di risorse, ma si ponevano anche un problema di classe dirigente e di quello che oggi noi chiameremo il capitale sociale, cioè di assenza di nessi, prima parlavamo di fiducia, di assenza di nessi e di fiducia tra le persone che vivono nel mezzogiorno. Cioè questo forte processo di sfiducia. Ora è evidente che il mezzogiorno ha delle problematiche che riguardano il sistema infrastrutturale, che riguardano il sistema del credito, ma direi, purtroppo, ecco, purtroppo, ancora oggi vale quello che negli anni Cinquanta un sociologo che si chiamava Bansfield definì il familismo amorale, che è un problema tutto culturale. Noi abbiamo ancora tante, oltre ad avere tante sacche di eccellenza nel mezzogiorno, che però non riescono ancora a creare sviluppo diffuso, abbiamo tante sacche di familismo amorale, per cui il paese si ferma sull'uscio della propria casa. Ecco, il che significa? Una delle carenze ancora oggi del mezzogiorno è quella del capitale civico. Io un tempo fa con una collega abbiamo fatto un'analisi, abbiamo visto che il capitale civico, cioè la fiducia nelle istituzioni e il senso civico del mezzogiorno, è più indietro rispetto al capitale civico del Centro. Con questo non voglio dire che il problema è insormontabile, voglio dire che può fare molto di più un processo di educazione che parte da una scuola riformata, che non probabilmente tanti miliardi di euro messi sul sistema infrastrutturale, su questo evidentemente lo diamo per scontato. Noi in questi anni, credo, abbiamo affrontato tutto il tema fondamentalmente come un tema di risorse, ma risorse finanziarie. Noi abbiamo bisogno di un tema di risorse umane, di creazione di classe dirigente, ma soprattutto di creazione di un senso civico che non è tra mezzogiorno e Centro Nord, è un senso civico allargato. Ecco perché ci possono essere delle istituzioni, come istituzioni a rete, come il sistema delle camere di commercio, ad esempio, che possono ampliare, diciamo, la capacità di fare sistema, di fare in esse, perché ricordo che, per esempio, le camere di commercio sono diffuse in Italia, ma sono diffuse anche all'estero. E il mezzogiorno ha bisogno sempre più di apertura, perché oggi soltanto il 10-11% delle esportazioni nazionali viene dal mezzogiorno. E ha bisogno di apertura economica, ha bisogno di apertura culturale. Quindi abbiamo bisogno sempre più di reti e di soggetti intermedi. Le camere di commercio sono dei soggetti intermedi che supportino, non possono essere loro evidentemente gli unici attori, ma che supportino gli organismi dello Stato in una logica di condivisione e di partecipazione e uno sforzo di sviluppo. Ecco, esposito, vi faccio una domanda un pochino provocatoria. Ma lei sta parlando delle stesse camere di commercio che qualche anno fa si era detto che sarebbero dovute essere soppresse perché inutili e onerose? Sì, io sto parlando come denominazione delle camere di commercio che in Italia si disse che erano poco funzionali. In realtà poi che cosa è successo? E qui il discorso è un po' più ampio perché riguarda tutti i colpi intermedi. Allora, noi siamo un paese che si è costruito dal basso. Cioè, il nostro nucleo fondamentale è il territorio. Non abbiamo avuto grandissime imprese che hanno motrici, per così dire, dello sviluppo, ma abbiamo un tessuto di fuoco. Noi abbiamo una società che si è costruita dal basso, una società che è stata fatta da corpi intermedi, quindi da associazionismo, ma non solo associazionismo. Le camere di commercio, all'interno delle camere di commercio, ci sono tutte le varie forme di associazionismo. Le camere, anni fa, avevano delle problematiche, sono riformate, stanno concludendo un lunghissimo processo di riforma. E' molto combattuto e contrastato questo processo di accorpamento, anche perché c'è un problema di campanilismo in cui, ecco, le città che perdono l'ubicazione, il ruolo diretto di emanazione della Camera di commercio hanno cercato in tutti i modi di contrastare questa riforma. Esattamente, il punto è questo. Allora, c'è stata una recente indagine, tra l'altro, di Ipsos, che invece ha intervistato gli imprenditori delle camere che si erano accorpate, che hanno dato invece un giudizio positivo sia sull'attività della Camera che sull'attività di servizio. Noi non dobbiamo confondere la partecipazione e il ruolo di corpi intermedi responsabili con il campanilismo. Perché il campanilismo è un concetto, se mi consente, quasi medievale, cioè che richiama al feudo, al potere locale, e in un mondo globale è assolutamente superato. Il processo di partecipazione è un processo che parte dal locale, ma cerca di creare dei nessi. Cioè, nel momento in cui bisogna realizzare dei servizi su scala globale, prima abbiamo parlato di innovazione 4.0, e bisogna avere quindi una scala al riguardo. È importantissimo l'aggancio sul territorio, ma il fatto che ci sia la bandierina, oppure che i soggetti locali siedano all'interno di un consesso, diventa secondario rispetto alle esigenze imprenditoriali che nascono dal territorio, ma si proiettono in un contesto globale. Per questo, diciamo, le Camere stanno attraversando, hanno attraversato un processo di riforma, speriamo ormai concluso. Per questo noi pensiamo che anche le Camere italiane all'estero, che lavorano in 56 paesi, sono dei soggetti che possono aprire sul versante estero l'Italia, perché l'Italia, pur avendo un buon grado di apertura internazionale, rimane ancora un paese chiuso su alcuni versanti alle forme di innovazione. Proprio su questi aspetti voglio farle un'altra domanda. Le chiedo quanto digitalizzazione, export e internazionalizzazione delle nostre PMI possono essere da volano per il rilancio della nostra economia? Guardi, se lei mi avesse fatto questa domanda un anno fa, io avrei detto, sicuramente è fondamentale, attenzione, la digitalizzazione si sta affermando, dobbiamo seguirla. Ormai l'esperienza post-Covid ci ha... Un'accelerazione pazzesca a tutto. Ha dato un'accelerazione pazzesca. Allora, stiamo presente che già prima del Covid il mercato internazionale dei servizi digitali faceva tre volte come tasso di incremento il mercato di beni e servizi. Questa cosa è cresciuta tantissimo. Cosa voglio dire? Oggi capacità di esportare e capacità di stare sulla rete in vari modi, non necessariamente soltanto come esportatore, ma anche come importatore, o come sub-fornitore, perché un altro degli effetti della crisi Covid è stato un accorciamento dei processi di sub-fornitura globale, quelle che vengono chiamate le catene globali del valore. Diventa strategico. Non è pensabile, da un lato, una politica di digitalizzazione, dall'altro una politica di esportazione, dall'altro una politica di promozione di vendita all'estero. Tutti e tre questi elementi devono andare di pari passo con una forte integrazione. Devo dire che da questo punto di vista l'aspetto è stato raccolto, nel senso che il governo ha messo in piedi un programma di promozione integrata in cui ci si rende conto che un'impresa per vendere all'estero, ma anche per vendere in Italia, ha bisogno non solo di un export manager, ma ha bisogno di un manager digitale. E su programmi come questi a livello territoriale le Camere di Commercio italiane si stanno molto impegnando perché hanno creato addirittura in ogni provincia dei punti di accesso alle imprese, dei PID, delle che chiamano appunto imprese digitale, perché ormai la digitalizzazione è diventato il veicolo di tutto. Ma attenzione, dobbiamo tenere presente che la digitalizzazione va sempre coniugata con un certo aspetto di personalizzazione. Per cui è cambiato il mix del modo di essere presenti all'estero perché la rete digitale ci aiuta anche a rappresentare, probabilmente a rendere più economici alcuni processi. Però il rapporto poi di personalizzazione diventa comunque un rapporto fondamentale perché non tutto può essere chiuso sulla rete digitale e anzi enfatizzare troppo il peso della rete digitale in alcuni processi rischia di essere quasi misleading e rischia quindi di non portare quei processi di sviluppo che invece si vorrebbero sollecitare. Ecco, arriviamo alla chiusura, alla conclusione del suo libro, del suo testo. Nell'ultimo capitolo lei parla di una globalizzazione dal volto umano. Come si può realizzare questa globalizzazione dal volto umano? Perché questo mi incuriosisce molto. Devo essere sincero che nel libro ho trovato la risposta, però vorrei sentirlo dalla sua viva voce. Guardi, io ho richiamato le parole di un economista che parlava di capitalismo dal volto umano. Noi ogni anno a Davos, in altre sedi, vediamo che c'è stato in questo periodo, da un lato, una crescita abnorme della ricchezza prodotta attraverso strumenti finanziari. Per cui, io prima dicevo, servono imprenditori, ma in realtà serve ricominciare a fare e non soltanto a speculare, perché questo ha portato due cose. Ha portato, da un lato, un fortissimo ampliamento delle disuguaglianze. Generalmente poi le disuguaglianze vengono viste come disuguaglianze di reddito, di patrimonio. Sì, è vero, il famoso 1% che detiene quoti abnormi di reddito mondiale. Ma la verità è che il primo aspetto della disuguaglianza riguarda la libertà delle persone. Allora, noi possiamo avere sviluppo, come dice un grande economista che ha l'Artyazen, soltanto se aumentiamo la libertà e soltanto se aiutiamo le persone ad esprimersi di più. Questo richiede, evidentemente, un cambiamento fondamentale di paradigma. Le faccio un esempio. Io credo che non sia stato un bene, almeno per i valori in cui io credo, in cui i valori occidentali, il processo che gli Stati Uniti hanno negli ultimi quattro anni sperimentato, che è stato un processo di isolamento. Se allora la potenza egemone dà al mondo il messaggio che isolarsi conviene, tutto questo evidentemente porta, diciamo, ad un processo negativo. Non a caso abbiamo visto che noi abbiamo perso moltissimo sulla cultura del multilateralismo, delle relazioni multilaterali e si sono affatti accordi tra singoli paesi. Io credo che noi dobbiamo, da un lato, rilanciare quello che ho detto, il senso civico, perché conviene. Devo dire che ci sono diversi analisi, anche a livello internazionale, che dimostrano che una maggiore attenzione nei confronti degli altri, un diverso modo di avere una leadership, che io chiamo una leadership fiduciaria, che si basa sicuramente su autorità, ma anche su partecipazione, può dare un senso diverso. Ma certo non a tutto il mondo. Però mi colpisce se, come è capitato l'anno scorso, le principali multinazionali statunitense a un certo punto iniziano a dire guardate, è conveniente per noi tener conto non soltanto degli azionisti e dell'utile per gli azionisti, ma di tutti gli stakeholder delle grandi multinazionali, perché questo ci accredita di più nei confronti di un pubblico. Teniamo presente, e qui chiudo, che noi abbiamo i millennial, ma anche quelli che vengono dopo, che sono molto attenti ad alcuni valori, che sono quello dell'ambiente, della partecipazione e soprattutto della condivisione, e questi sì sono valori che li dovranno tenere presente e gli imprenditori dovranno tenere presente per ricostruire, io credo e spero, un capitalismo, quello che ho detto prima, dal volto umano, come ha detto lei, un capitalismo imprenditoriale civile, globale. Benissimo, allora è stato veramente un piacere fare questo confronto con Gaetano Fausto Esposito, che ci ha presentato oggi il suo ultimo libro, Come un salmone che risale la corrente, un libro che consiglio vivamente di leggere, perché tratta con la grande capacità narrativa, che d'altronde anche sentendolo parlare si capisce subito di Gaetano Fausto Esposito, un tema così delicato, quale l'economia, i mercati e il capitalismo globale più umano, che è l'ultimo tema che abbiamo trattato. Bruno Mondadori, editore, dove si può trovare questo testo Esposito? Ma è in tutte le librerie, perché è un testo diffuso in libreria da Bruno Mondadori, che tra l'altro è un editore che ha dedicato a questi aspetti diversi saggi, anche di altri autori, quindi è molto attento a questo tipo di tematiche di un'economia diversa, di un'economia da salmone. Molto bene, molto bene, complimenti ancora anche per la metafora, che veramente, usiamo un termine, è stata veramente precisa e rappresenta bene quello che dovrebbe essere all'interno di questo libro. Io ringrazio i nostri ascoltatori per essere stati presenti con noi, torneremo ad occuparci di altri libri, di altre pubblicazioni, sempre con un occhio ovviamente a quello che è l'economia del nostro paese e tutto ciò che può servire per il rilancio e per lo sviluppo anche delle nostre piccole e medie imprese. Grazie ancora Esposito di essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie a tutti e arrivederci.